Dopo due anni di stop causato dalla pandemia, a Pianella torna il baratto, organizzato dall'Accademia Teatrale Arutron. Lo scambio, il baratto appunto, avviene tra gli artisti che offrono un saggio della loro arte durante le tre serate del festival e gli spettatori che ricambiano con cibi e bevande da condividere dopo lo spettacolo. Dopo la prima serata di presentazione avvenuta ieri presso il Belvedere Pietrolungo di Pianella, il baratto andrà avanti fino a domani, domenica 28 agosto, caratterizzando ben tre serate del cartellone pianellese dell'estate unica. L'inizio degli spettacoli è previsto per le 20.45 e a far da padroni di casa in questa rinnovata edizione post-pandemica saranno Emiliano Begni, pianista, arrangiatore e cantante, Chiara Colizzi, attrice e doppiatrice e Franco Mannella, attore, doppiatore, regista e direttore artistico dell'Accademia Teatrale Arutron e del baratto stesso, che al TG8 racconta cosa accadrà oggi e domani a Pianella. Ripartiamo con tanti amici che vengono a trovarci, le voci del doppiaggio, quindi del cinema e della televisione e il cast di Tutti parlano di gemi, che è un musical a cui ho partecipato, che ha debuttato quest'anno al Teatro Brancaccio e che nella stagione prossima farà un tour in Italia. Lo spirito del baratto è quello che colpisce tutti e che porta i miei amici e colleghi a interessarsi, a venire a capire di che si tratta ed è lo scambio fra noi che facciamo questo mestiere, raccontiamo storie con la nostra arte e il pubblico, gli spettatori che vengono e ci portano da mangiare, da bere cose preparate con le proprie mani ma anche acquistate. Questo è lo scambio ed è anche lo scambio di storie perché alla fine noi raccontiamo la nostra storia, anche quello che c'è dietro il nostro mestiere, dietro le quinte, da dove arriviamo, come ci siamo arrivati e le persone del luogo sono autorizzate a raccontare le proprie storie e quindi la storia che interessa a noi che stiamo da quest'altra parte è la storia del territorio, di Pianella nello specifico che ospita il baratto e che ha visto nascere il nostro baratto e della nostra terra dell'Abruzzo. Questo è lo scambio che avviene. Stasera ci sarà quindi ospiti Fiamma Izzo, della gloriosa famiglia Izzo che segna ancora la storia del doppiaggio, Francesco Vairano, grande direttore del doppiaggio e attore, la voce di Gollum e della signora degli anelli e i giovani talenti, i fratelli Campaiola Award. Domenica chiudiamo con tutto il cast di Jamil Musical, quasi tutto, chi non c'è poi parteciperà in collegamento perché tutti ci tengono a partecipare al nostro baratto. E poi ci sarà la compagnia dell'Aratro che è il frutto dell'Accademia Arotone di questi anni che si è trasformata e ha dato vita alla compagnia proprio durante il periodo della pandemia. Siamo noi, poi ci sono i pianellesi, c'è il comune che ci sostiene, c'è Rustichella d'Abruzzo che è lo sponsor ufficiale e altri piccoli sponsor, produttori che danno il loro contributo in natura con vino, focacce, pizze, eccetera. Quindi tutti invitati a partecipare. Sì, l'ingresso è libero se portate da mangiare e da bere.